Alla scadenza dell'anno di tempo che la Corte Europea dei diritti umani ha dato all'Italia per migliorare il sistema carcerario, il garante dei detenuti Italo Tannoni ha fatto il punto sulle condizioni nei sette istituti di pena della Regione. Nelle Marche c'è stata sicuramente una deflazione di uno dei problemi più sofferti della nostra realtà regionale, quello del sorraffollamento perché si è passati dalle 1.225 unità di circa due anni fa a 974 di quest'anno e quindi l'effetto deflattivo si è verificato. Dall'altra parte però ci sono ancora moltissime contraddizioni, c'è un sistema penitenziario che ancora non si è adeguato a quelle che sono le indicazioni della Commissione Palma per le realtà carcerarie che riguardano soprattutto l'abbattimento dei balconi divisori, per i colloqui, tutta una serie di misure che riguardano per esempio i permessi brevi, gli arresti domiciliari. C'è un problema con la magistratura di sorveglianza eccessivamente rigida nella nostra regione nel concedere queste facilitazioni ai detenuti e in sostanza andrebbe rivisitato l'intero comparto della realtà carceraria perché alcune situazioni sono in forte criticità, fermo e camerino. In altre realtà come quella di Macerata Feltria si è rischiata la chiusura e per fortuna ha intervenuto anche il Consiglio regionale con un suo documento che dovrà essere riproposto perché il carcere a quello che ci hanno detto è stato, diciamo così, riattivato con l'inserimento degli articoli 21 che sono quei detenuti che, diciamo, accedono anche al mondo del lavoro in situazioni esterne alla realtà carceraria. A spiegare l'impegno politico e finanziario della regione invece è stato il presidente dell'Assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi. L'impegno della regione è quello di sempre. È un impegno fatto di documenti approvati all'unanimità da parte del Consiglio regionale e di interventi fatti nei confronti del governo e di assoluta non condivisione di contrasto di ciò che la Corte europea sostiene, cioè che il livello delle nostre carceri è assolutamente disumano. Nella regione, peraltro, stiamo in condizioni migliori di altre realtà, però sono ancora troppi i problemi aperti. riguardo all'occupazione lavorativa dei detenuti, riguardo al sovraffolamento, riguardo allo stato fisico delle carceri e riguardo alla carenza di personale. Quello che può fare la regione lo ha fatto in questi anni, lo ha fatto poi in modo unitario, senza distinzioni. Certo, però, adesso la parola passa al governo nazionale. Non è più possibile, secondo me, non c'era bisogno di questa pronuncia per riscontrare che, così come prevede la nostra Costituzione, la pena detentiva deve rappresentare anche uno strumento per la riabilitazione dei detenuti. È prevista la nostra Costituzione. Non ci sono le condizioni oggi perché questo avvenga e quindi le istituzioni devono fare ognuno la sua parte. Grazie.